E' buono E' buono dove? Vediamo che è finito Saluta agli amici A chi stai pensando? Mentre ti buschi bucciaino? Al mio uomo ideale Al tuo uomo reale o ideale? Reale Come? Reale E' sconcertato Io avrei un'idea Alzati un attimo A proposito Forse quasi me lo mangio Non 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 Grazie a tutti.